I can barely take care of myself Ausis è il nuovo disco dei Coffee Shower uscito il 13 novembre e anticipato dal ciclo Broken Pieces un singolo accompagnato da un video firmato dalla regia di Stefano Poletti oltre 5.000 visualizzazioni per il video e il brano suonato in varie radio italiane Radio Rock a Roma, Radio Popolare Lombardia Sì, siamo molto soddisfatti Ausis, il nuovo disco dei Coffee Shower è uscito la settimana scorsa, venerdì 13 novembre su Ammonia Records che è una storica etichetta del panorama indipendente nazionale e insomma il video che ha anticipato il disco, il singolo Broken Pieces abbiamo girato questo video con un grande regista che è Stefano Poletti che non ha assolutamente bisogno di presentazioni e ha lavorato con grandi artisti come Baustelle, Neck, Appino, Sictamburo abbiamo girato la maggior parte delle scene all'interno del complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Colle Maggio e poi anche in altri luoghi della città tra cui il nostro playback, quello dove noi appunto suoniamo è stato girato all'esterno di un club che si chiama il Pinacoteca e approfitto per ringraziare e salutare Stefano Cattivera che è il proprietario che ci supporta e ci dà sempre una grossa mano il personaggio principale che affronta una sorta di crisi esistenziale con se stesso si rapporta con quelli che sono i suoi mostri interiori e piano piano trova la via dell'equilibrio all'interno di questo percorso i Coffee Shower sono insieme da 15 anni e hanno calcato i palcoscenici italiani e non solo sono Fausto Chiarizzi a voce e chitarra, Fabio Cortelli chitarra e voce, Michele De Carlo al basso per Luigi Chiarizzi alla batteria tanto live e a breve un concerto per il pubblico per presentare alla città il singolo e l'album stanno concretizzando un po' di live per quanto riguarda sia l'Abruzzo che fuori in Italia tra cui quello del 21 novembre a Piazza d'Arti al Muspac dove presenteremo il nuovo disco dove sarà una grande festa, un grande concerto e tanto altro insomma quindi invitiamo tutti a venire ad ascoltare Coffee Shower assolutamente sì, vi aspettiamo